Una situazione drammatica che va avanti ormai da anni. Sì, questa è una situazione che va avanti da anni. Sembra che fino ad oggi è irrisolvibile, perché la politica ha fatto del suo. Questo è un impianto che doveva servire i cinque comuni, mentre invece col tempo la discarica è riempita. Il Cirso è fallito insieme alla Sogcesa, i debiti a non finire, e la situazione è questa, i capannoni pieni perché per smaltire io penso che all'incirca ci vogliono almeno 2 milioni di euro. La Regione l'altro giorno ha promesso che avrebbero votato l'impianto. Io non ci credo, perché la Regione comunque opera con i soldi dei cittadini e siccome qui c'è una ditta che l'hanno dato in gestione e loro hanno causato questo danno, bisogna vedere cosa fare. Comunque noi stiamo qua per protestare che bisogna togliere tutto quel pattome lì dentro, che è una cosa vergognosa. Cosa bisogna fare per difendere l'ambiente? In questo momento bisogna solo togliere tutti i rifiuti che stanno all'interno del Cirso, ex Cirso, perché è andato fallito. L'interno è pieno di rifiuti e in mezzo ai rifiuti c'è del benzene. Il benzene è talmente nocivo, l'ambiente, la natura, l'animale e le persone. Quindi se qualcosa va nel tordino significa che l'estate al mare non facciamo il bagno. Quindi tutti i comuni, tutte le genti, al di là dell'ideologia politica, perché non dipende dall'ideologia politica, e al di là dei confini, perché Mociano, Tareschi, Giuliano, Roseto, tutti i comuni sono interessati, devono togliere i rifiuti all'interno del Cirso, in modo che il Cirso diventa una cosa ecologica e ambientale, perché bisogna vivere tranquillamente e migliorare il nostro futuro. Il Comitato Santa Lucia di Atri sostiene gli ex operai Soggesa e i cittadini. Sì, senz'altro, perché anche loro, quando noi due anni fa ci fu una manifestazione ad Atri, sono stati presenti ed è rimasto questo contatto che seguiamo, per sostenerli per il lavoro che stanno facendo.